Civil Week 2024 siamo a San Donato, per chi ci sta seguendo in radio non può vedere quello che sta succedendo in questo momento ma vi cercherò di spiegarvelo, siamo accerchiati in questo momento da tanti arzilli del centro anziani di San Donato che hanno deciso proprio per questa Civil Week di prendersi cura di una piazza importante di questa città, di questo comune e di pulirlo. E come state vedendo e come posso descrivervi quello che sta succedendo appunto stanno iniziando a raccogliere rifiuti che sono intorno appunto alla piazza, nella piazza e stanno appunto cercando di rendere migliore il loro territorio. Io adesso voglio fare qualche domanda e capire meglio appunto quello che sta succedendo qui e allora lo chiedo a chi tutti i giorni ha a che fare appunto con il centro anziani di San Donato. Con se posso un attimo a poca voce però allora parlo con la tua collega, perfetto, benissimo. Allora chiediamo alla collega mentre sta accompagnando un arzillo che adesso si metterà a pulire, no? Perché qual è l'obiettivo di questa iniziativa qui a San Donato? Intanto impegnare la cittadinanza in un'azione volta alla tutela dell'ambiente quindi ripulire un po' quella che è l'area che vivono tutti i giorni a San Donato. Viene fatto da chi questa iniziativa? Voi avete queste maglie viola perché siete gli operatori del... Del centro anziani di San Donato. Un centro del comune di San Donato? Esatto, il comune di San Donato milanese partecipano le persone che frequentano il centro di urno e in collaborazione ci sono anche i ragazzi dell'oratorio San Terrico e poi è aperta in realtà tutta la cittadinanza quindi a chiunque voglia partecipare. Hai parlato di comune, so che c'è un vice sindaco da queste parti, allora lo fermo subito il vice sindaco di San Donato milanese. San Donato è importantissimo per questa Civil Week, sono tantissime iniziative della Civil Week di San Donato. Sì, siamo felicissimi perché effettivamente tanta parte della cittadinanza si è attivata, le associazioni hanno promosso quasi 50 iniziative e effettivamente saranno tre giorni molto intensi e speriamo che appunto anche la cittadinanza più allargata possa contribuire con la propria attività. Che cosa significa per un comune come San Donato impegnarsi nella Civil Week? Non è il primo anno che lo fate, anche gli altri anni. Quest'anno avete fatto le cose in grande. Sì, raccogliere un po' la spinta delle persone, delle tutte le realtà associative che già nel corso dell'anno promuovono iniziative legate al sociale, legate alla cultura, legate all'ambiente, quindi è un po' questo, riuscire a cogliere in questi tre giorni quello che è l'attivismo che già promuovono abitualmente nel corso del proprio anno. Due parole sul centro anziano, il servizio diurno, non solo tanti altri servizi e in più in questa circostanza ci sono anche dei ragazzi che rimano da un oratorio, che stanno appunto aiutando in questa iniziativa. Sì, il bello della Civil Week è proprio quello di creare delle sinergie, delle collaborazioni per promuovere appunto un attivismo civico che permetta a tutti di sentirsi un po' a parte. Vedete qua anche in effetti oggi c'è una commissione positiva tra appunto giovani, generazioni, generazioni più anziane e questo è un po' nello spirito della Civil Week e della Costituzione anche in termini proprio di uguaglianza. Perché infatti la Costituzione siamo noi è il tema di quest'anno, l'avete sposato in varie modalità. In varie modalità, esattamente, quindi sicuramente questo, quello dell'ambiente l'ho citato, il tema del sociale, della cultura e effettivamente in questi tre giorni succedono cose dappertutto in tutta la città che hanno alla propria base questa idea di solidarietà e di attivismo civico, di partecipazione. Questa è la Civil Week a San Donato, o meglio questo è uno degli eventi della Civil Week qui a San Donato, tantissimi appunto gli eventi che andremo a scoprire anche oggi, anche nei prossimi giorni perché appunto questa Civil Week va avanti fino a domenica, sono davvero davvero tanti gli eventi che ci sono in tutto il territorio milanese, in tutto il territorio della città metropolitana e anche appunto qui. A San Donato, Civil Week 2024, continua. Stop. Stop.